Mi schiaffeggia. Il vento delle guerre in Ucraina e Palestina mi schiaffeggia. La terza guerra mondiale si avvicina con un ronzio tremolante. Io non ho tempo di avere paura. Perché devo vivere così? Commento. Perché devi comprendere che le guerre locali sono uno sviatatoio che sgonfia prima la forma coscienza e poi la forma pensiero della terza guerra mondiale.